buon salve people bentornati sul mio canale io sono sempre il vostro new walker di fiducia eccoci oggi all'immancabile appuntamento con xbox news con domenica sempre polemica rassegna dell'informazione verde crociata farcita con disagio e croccantezza puntata magnum quindi dobbiamo correre parecchio perché ci sono un boato di cose di cui parlare parliamo innanzitutto di terze parti e parliamo di game pass perché ci sono state buone notizie ma anche cattive notizie mi spiego meglio in primis sapevamo che il giorno 26 novembre sarebbe dovuto arrivare football manager il gestionale calcistico al day one sul game pass come promesso già da tempo in memore purtroppo è stato rinviato dieci giorni dopo l'annuncio con la data ufficiale della release è stato spostato a marzo 2025 quindi tutti gli amanti del calcio dei gestionali del calcio dovranno attendere altri sei mesi purtroppo questa era la brutta notizia adesso passiamo a quelle un po più belline parliamo di match warrior 5 cleanse titolo che è stato rilasciato l'anno scorso non sul game pass ma che vedrà proprio il suo arrivo su game pass all'interno del catalogo nella prossima infornata possibilmente che dovrebbe arrivare questo martedì speriamo il titolo arriverà il giorno 16 ottobre quindi tutti gli amanti come me i nostalgici delle battaglie fra mech potranno riassaporare questo genere che effettivamente è un genere molto di nicchia con pochissime persone che lo giocano però super affezionati se non avete mai giocato un gioco di mech come si deve potreste provare match warrior 5 cleanse e infine in arrivo prossimamente anche goat simulator remastered che sapevamo sarebbe dovuto arrivare all'interno dei titoli del catalogo del game pass non c'era una data è stata comunicata ufficialmente il giorno 7 novembre arriverà proprio sul game pass ovviamente è un titolo super demenziale mega divertente avremo avremo la possibilità anche qui di giocarlo in cooperativa locale per cui bene nonostante non ci siano gli annunci ufficiali due titoli guadagnati uno spostato non così male dai passiamo adesso alla rubrica del servizio pubblico parliamo di titoli in arrivo in prova tramite xbox insider il programma al quale tutti possono partecipare c'è la app la scaricate sulla vostra xbox vi registrate poi potete partecipare a queste demo technical test già vi ho portato il primo impatto per fragpunk l'hero shooter con le carte è molto simile a valorant l'abbiamo visto insieme nel primo impatto ma arriverà anche un altro titolo che arriverà anche su xbox ovvero the first berserker kazan un action rpg molto particolare non è proprio il mio genere ve lo dico subito però c'è una closed beta una technical beta al quale potete partecipare scaricatelo giocatelo provatelo è lì per tutti i facenti parte del club dell' xbox insiders un'altra informazione fondamentale parliamo di doom eternal il titolo di id software che arriverà gratuitamente tramite prime gaming a tutti gli utenti che vorranno riscattarlo comodamente sul microsoft store su pc andate a scaricarvelo se siete degli abbonati al prime quindi andate recuperatevelo tipo subito assolutamente un'altra cosa che arriverà che potrebbe essere molto interessante per alcuni è un wrap ve li ricordate gli wrap quelli che si avvolgevano intorno alla series x ecco il progetto sembrava essere sparito dimenticato avevano fatto quella di starfield ne avevano fatti un paio ufficiali ne erano usciti alcuni molto carini quella tema windows vecchissimo a vecchio pc adesso arriva un'altra cosa vecchissima almeno esteticamente ovvero il wrap di serie x per xbox original quindi con la skin della prima xbox molto carina ovviamente il sito è quella di un privato con il quale io non ho nulla a che spartire non è un finale una cosa fini di lucro una partner c'è niente assolutamente però se volete trasformare la series x in una xbox oggi c'è il wrap parliamo di overwatch perché nonostante sia un rumor quindi ecco prendetelo sempre con le dovute cautele jason e urlatore al secolo jason schreier ha detto all'interno del suo libro che per quanto lui ne sappia dovrebbe essere in sviluppo un nuovo capitolo di overwatch un prodotto di overwatch che potrebbe essere il nuovo capitolo potrebbe essere un banale porting di quello che tutti conosciamo cioè di overwatch 2 stiamo a vedere che cosa succederà potrebbe essere che arrivi nell'immediato futuro potrebbe rimanere così nel limbo l'ha detto jason e urlatore potrebbe essere vero non lo so staremo a vedere tra l'altro sempre a tema overwatch dovrebbe essere in arrivo stando ad alcuni job listing delle ricerche di lavoro su linkedin dovrebbe essere in arrivo una major feature per overwatch 2 e quindi si stanno muovendo per cercare del personale adeguato a questo tipo di feature proprio per quanto riguarda marketing dove è richiesta una certa conoscenza del franchise la capacità di mettere hype alla gente per questo tipo di prodotto io spero sia la modalità pv anche se ufficialmente è stata cancellata però si sa mai la speranza è l'ultima a morire incrociamo le dita per overwatch ma sempre a tema di blizzard intanto ci colleghiamo direttamente con i first party parliamo di artstone il gioco di carte basato sulla lore di warcraft che è arrivato alla sua resima espansione non so quale sia in questo momento ne ho fatte talmente tante che ho perso il conto arriverà il giorno 5 novembre porterà con sé i drynei come nuova tipologia di pedine di creature più altre parole che ritornano ancora dal passato 145 carte un casino di roba il che è un bene tra l'altro sempre parlando di artstone sono arrivati dei dati interessanti in merito ai profitti di artstone pensate un po da quando microsoft si è messa in mezzo per risolvere la questione activision in cina sapete tutto il casino che c'era stato bobby kotick e compagnia bella ecco adesso che hanno ripristinato i server anche in cina per i prodotti di blizzard tra cui anche artstone artstone ha fatto 5 volte i profitti rispetto a prima quindi si è portata tipo a 5 milioni di dollari di profit nel mese di settembre 2024 perché marketing di xbox sono degli incapaci non sono capaci di fare niente e poi il mercato asiatico beh che schifo non gliene frega niente microsoft non investe rimaniamo sempre all'interno del blocco di activision parliamo di call of duty parliamo di black ops 6 che ormai è di imminente release ormai la gente sta lanciando le mutande in giardino tutti a posto sembrerebbe essere stata confermata la mappa amatissima di nuketown quindi benissimo dovrebbero essere state rimosse le sfide settimanali questo è stato detto direttamente dal team e per guadagnare tutti i vari progress eccetera eccetera dovrebbe esserci un nuovo sistema di challenge e di eventi anche stagionali rispetto alle sfide settimanali non so se sarà più o meno complicato o intricato difficile non lo so staremo a vedere quello che arriverà una piccola chicca volevo rilasciarla perché all'interno del canale di call of duty italia è stato è stato distribuito un video dove chiaramente pubblicitario ai fini di black ops 6 dove compare il signor gian carlo ve lo ricordate il signor gian carlo quello della ruota della fortuna delle amazzoni che combattevano i nemici grazie alla loro foga che poi non era finita proprio così ecco è comparso in un cameo all'interno di un video di call of duty cioè dopo quello di giorgione vestito da call of duty c'è anche quello del signor gian carlo madonna marketing che vola altissimo proprio e infine nel caso in cui non siate degli esperti del franchise di black ops che ha una lore tutto sommato abbastanza lunga siamo al sesto capitolo insomma di roba ce n'è all'interno della storia sia sul sito ufficiale di call of duty che sul canale ufficiale inglese di call of duty è stato realizzato un bel riassuntone di tutta la storia del franchise di black ops fatto proprio in una maniera super stringata così capite quelli che sono i protagonisti nel caso in cui vogliate approcciarvi quantomeno alla campagna riuscite a cogliere tutte le citazioni e riferimenti un lavoro ben fatto bravissimi adesso passiamo al blocco degli xbox game studios e parliamo di forza motorsport perché a un anno praticamente dal rilascio arriva il nuovo update il tredicesimo della lunghissima serie di update uno al mese praticamente quindi grandissimi quelli di ton ten che includerà la nuova drift mode quindi la nuova modalità tutta sgommate derapate con macchine anche appositamente studiate e settate per fare questa cosa sunset peninsula il nuovo circuito in più ci saranno delle migliorie in merito alle partite private in merito alle opzioni per qualifiche prove libere eccetera e sono state anche inserite 4 nuove auto gratis che si possono ottenere all'interno del gioco delle ford mustang fighissime ma sempre per il franchise di forza però per horizon arriverà il giorno 10 ottobre horizon backstage una modalità di forza horizon 4 che è stata implementata anche forza horizon 5 che vi permetterà di andare a recuperare auto del passato acquistandole nello shop apposito e dove con i vari punti potranno essere riscattati e quindi un buon modo per entrare in possesso di auto che magari vi siete persi grandissima feature è tre anni che sulla piazza forza horizon 5 continua ad andare avanti bomba parliamo anche di tower borne già che ci siamo perché tanto xbox e snow games io ho un foglio davanti che fra nomi e date sto facendo il delirio spero di riuscire attaccare tutto insieme in una maniera corretta parliamo di tower borne perché è arrivato proprio in occasione delle festività di halloween ecco un nuovo un revamp grafico tutto a tema mostri zucche e quant'altro all'interno proprio dell'early access di tower borne che per adesso è solo su steam è stata completamente rimodellata la classe sentinel quella con spada e scudo una delle mie preferite una delle più fighe sinceramente in più è stato confermato nuovamente che arriverà su console nel 2025 non abbiamo informazioni in merito al game preview per gli abbonati di xbox game pass vi fornirò tutte le informazioni in tal senso però stanno continuando a lavorarci hanno aumentato la stabilità ha migliorato le performance lo stanno sistemando appuntino passiamo però a flight simulator altro titolo che ormai manca pochino a vederne l'arrivo è stato comunicato proprio dal team di flight simulator che è possibile entrare a far parte dei play test closed alpha dove inviando proprio il dx diag direttamente allo staff di flight simulator sul loro sito nella pagina apposita potreste venire selezionati per entrare a far parte del play test di flight simulator su pc io l'ho fatto ma con la fortuna che c'ho mi inviteranno tipo una settimana dopo che il gioco è uscito minimo e infine parliamo di fallout nuovo mexico o meglio nuovo mexico credo si dica così un abbraccio a tutti gli amici messicani perché sembrerebbe essere stato rilasciato appunto il nuovo trailer di fallout nuovo mexico che ha a che fare con fallout new vegas è basato proprio sul motore sull'engine di fallout new vegas questo trailer mostra una nuova storyline dove avremo un sacco di roba da fare un sacco di contenuto da spolpare ovviamente trattandosi di una mod è disponibile tramite nexus mods non è ancora stata rilasciata ufficialmente perché ci stanno lavorando però sappiamo già che quando le cose stanno così siamo più o meno nei termini di fallout london quindi è molto probabile che questa questa mod sarà gigante non sarà possibile rilasciarla su console per cui solo gli utenti pc di fallout new vegas potranno giocarla non hanno chiarito la loro posizione in merito a un porting console però insomma amanti di fallout potreste vedere questo prima di fallout 5 anzi quasi sicuramente e adesso passiamo al blocco finale che non sarà una polemica ma un'informazione molto interessante parliamo di sarah bond che in un post ha dichiarato ufficialmente che a partire dal novembre gli utenti android potranno acquistare e giocare i titoli di xbox direttamente dall' xbox app quindi muovendo il primo passo verso il discorso cloud gaming dei titoli di proprietà direttamente all'interno della app cosa poi tra l'altro corroborata anche da corroborata detta da the verge da tommaso guerreno che ha detto stando a fonti interne che io so sarà possibile giocare i titoli in cloud gaming tutti i titoli di proprietà in cloud gaming sempre a partire da novembre ma con priorità agli xbox insiders almeno questo è quello che dice lui poi va a fare il paio anche il nostro gezzo cordeno dicendo che non arriveranno tutti in blocco ma saranno scaglionati in varie tranche quindi arriveranno prima o dopo arriveranno tutti sta di fatto che per il momento a novembre gli utenti android avranno questa possibilità ufficiale detto da sarah bond e poi probabilmente arriveranno anche tutti gli altri perché è successa questa cosa beh perché epic ha vinto in tribunale contro google per il discorso della causa in merito a la app di epic direttamente su google sul play store e tutte le microtransazioni che ci andavano dietro che google voleva e che epic non voleva dare almeno una percentuale delle microtransazioni il giudice ha dichiarato che google debba aprirsi sostanzialmente ospitare piattaforme altrui e non gli spetti nulla di diritto per quanto riguarda le microtransazioni e questo era quello che aveva vincolato fermato tantissimo anche xbox anche con tutta la diatriba con apple anche epic è sempre in causa ancora con apple per tutta questa cosa al netto delle scartoffie burocratiche quant'altro del fatto che google abbia già fatto ricorso ovviamente e per noi per noi utenti xbox significa che quantomeno gli utenti android con questa con questa dichiarazione appunto del giudice potranno da novembre giocare in cloud gaming direttamente dalla xbox app e acquistare i titoli direttamente dalla xbox app cosa che per il momento non è possibile sempre per quel discorso delle microtransazioni dove si poteva scaricare il gioco ma per acquistarlo bisognava andare sul sito sul browser andare su xbox punto com e comprarlo da lì punto e basta ben venga che questa cosa si sia sbloccata ora resta l'annoso dubbio ma apple ce la farà mai a farci giocare anche a noi comodamente ecco grazie in cloud gaming ai nostri titoli di proprietà comodamente da una app nativa sugli ecosistemi che usano il sistema operativo ios non lo so perché altrimenti gli utenti android potranno per via di questa di questa ultima sentenza mentre gli utenti apple potranno andare solo ed esclusivamente tramite il browser punto non che sia un ma cioè nel senso non che sia una menata però speriamo che anche apple prenda quattro schiaffoni da qualche tribunale e sia costretto ad aprirsi così come è stato costretto google perché così vince il gaming vincono i gamers anche se a voi del cloud gaming non ve ne frega nulla volete la console volete quella che vada a competere con l'altra il resto del mondo del gaming intanto sta andando avanti bene all'apertura del cloud gaming speriamo ovviamente che per tutto questo nuovo step ed è qui la domanda finale microsoft sia estremamente consapevole di ciò a cui va incontro perché dovrà potenziare le proprie infrastrutture a un livello considerevole per giocare tutti i giochi in cloud gaming non solo quelli di game pass quindi insomma incrociamo l'incrociabile perché sta cosa doveva essere fatta nel 2019 siamo solo cinque anni in ritardo ci siamo ci siamo bene benissimo people questa la puntata di domenica è sempre polemica io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video arriveranno contenuti nell'arco di questa settimana grazie per essere stati in live con me in diverse serate all'interno della settimana appena trascorsa ce ne saranno molte altre anche nella prossima ho sentito metafor e fantazio da ronne tu stai giocando a metafor bravo ovviamente ci vediamo la prossima puntata di domenica è sempre polemica ma anche nella prossima settimana per tutti gli altri contenuti detto questo ragazzi non mi resta altro che augurarvi buon divertimento gamers alla prossima ciao 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 ciao